Tiziano Ferro Tiziano Ferro, esce l'edizione speciale di Il Mestiere della Vita Sono passati 11 mesi dalla pubblicazione dell'ultimo album di Tiziano Ferro, Il Mestiere della Vita, ma è pronta ad uscire un'edizione speciale del disco. L'annuncio su social con la tracklist. La comunicazione, che ha mandato invisibilio i fan del cantautore di Latina, è stata data sulla pagina ufficiale Facebook di Tiziano. Esce la special edition Il Mestiere della Vita Urban vs Acoustic. 2 CD box con l'album originale e un disco inedito con una selezione di brani in versione Urban, Acoustic più 4 bonus track. . Il cofanetto conterrà, quindi, sia l'album originale che una selezione di brani in versione Urban, Acoustic. Acoustic e 4 bonus track. Grande attesa anche per il brano cantato con Levante, dopo il successo del duetto con Carmen Consoli nel singolo Il Conforto. La decisione di pubblicare la special edition arriva come un fulmine a ciel sereno, mentre si susseguono i rumors su un possibile programma televisivo condotto da Tiziano Ferro e Marco Mengoni. 4 dischi di platino. Il Mestiere della Vita è uscito il 2 dicembre del 2016 e ha già conquistato 4 dischi di platino. . Su questo album, Tiziano aveva detto, un disco nato un po' così, scritto senza fretta, con una gestazione di due anni, senza la pressione della scadenza, da solo nella mia camera, per capire se ciò che stavo facendo mi divertiva ancora come quando avevo 16 anni. . L'unica responsabilità che sento nei confronti della gente che mi ascolta è questa, non avere nessun tipo di paura di esporre la mia ricerca personale. Un tempo scrivevo canzoni a difesa, chiudendomi dietro i brani. . Questo invece è il primo disco che faccio in cui ho amato il processo fino in fondo. . Il video con la dedica ai fan. Tiziano Ferro ha voluto ringraziare i tantissimi fan che hanno riempito gli stadi durante il Mestiere della Vita Tour con un video girato nel backstage dei concerti. . Nel video, il cantante fa entrare il pubblico nel dietro le quinte, dalla preparazione della scaletta alle prove. Su Facebook, Tiziano aveva commentato così il video, immagini belle, immagini mosse. . . Urla, discorsi rubati dietro al palco. Quanta vita! Dedicato a tutte le 460.000 persone che hanno scelto di passare una serata insieme a me. . Con un po' di nostalgia e con lo sguardo verso il futuro, questo è stato il Mestiere della Vita Tour 2017. E adesso un nuovo regalo, un cofanetto con delle versioni inedite dei suoi successi. . Bisogna solo aspettare il 10 novembre e scoprire la magia di questa special edition. .